Ciao a tutti, bentornati Allora oggi facciamo uno spuntino insieme Io intanto mi scuso per questo fascio di luce che mi prende proprio qui però è uscito il sole e questo è Allora io ho una mela che ha un profumo delizioso Poi ho un coltellino Io ho naturalmente lo scottex per metterci le bugge Qui fuori stanno facendo giardinaggio quindi credo che sarà un video abbastanza disturbato Ok, allora Io non amo particolarmente gli hitting sounds però mi piacciono quelli con le cose croccanti e la mela è abbastanza croccantina e tra l'altro a me piace molto il rumore di quando si sbuccia la frutta e quindi la sbuccerò con voi facendo il serpentino come all'asilo se ci riesco e quindi la sbuccia la frutta che brava guardate che serpentino lungo qui il sole va e viene come a voglia la torta la torta la torta la torta Grazie a tutti. Me lo aspettavo più croccante. È molto strano mangiare di fronte al proprio video. Grazie a tutti. Ho iniziato il video sparaflesciato dal sole e adesso praticamente se n'è andato. È quasi buio. Grazie a tutti. 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 Io vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video e se vi è piaciuto vi aspetto al prossimo. Vi auguro tanta serenità. Ciao. Ciao.